la frizione è un meccanismo che funziona per attrito la risposta corretta è vero la frizione è generalmente autoregolante al fine di recuperare il gioco dovuto all'usura delle guarnizioni d'attrito ferodi in caso contrario deve venire periodicamente registrata in officina la risposta corretta è vero i ferodi sono praticamente due anelli fatti di un materiale ad alto coefficiente d'attrito cioè che resiste alle alte temperature per attrito di surriscaldamento senza fondersi prende il nome dal suo inventore che si chiamava ferodo e è applicata questi due anelli sono applicati uno all'estremità della frizione verso il volano e l'altro verso lo spingidisco abbiamo quindi detto che la risposta corretta è vero se la frizione slitta è possibile che sia entrato olio dal motore dal cambio risposta corretta vero c'è qualche guarnizione che non tiene bene se la frizione slitta è possibile che il materiale d'attrito del disco cioè i cosiddetti ferodi sia usurato vero naturalmente col funzionamento si assottiglia lo spessore di questi due anelli perché continuamente devono fare attrito nella fase di soprattutto di innesto l'attrito è maggiore perché la fase di innesto dura sempre un po di più di quella di disinnesto e quindi c'è dell'attrito in quella fase risposta corretta quindi vero se la frizione slitta è possibile che il disco sia imbrattato dall'olio del servo comando risposta corretta vero se la frizione slitta è possibile che sia guasto il sistema di molle dello spingidisco lo spingidisco è quello che praticamente quando noi rilasciamo il pedale della frizione spinge il disco della frizione contro il volano e il disco rimane imprigionato in mezzo fra il volano lo spingidisco e ruota insieme diciamo così al volano trasmettendo il movimento dell'albero motore alle ruote motrici ovviamente purché sia inserita una marcia nel cambio la risposta corretta è vero se la frizione slitta e non si interviene possibile che si verifichino danni maggiori a causa del sul riscaldamento di tutto il meccanismo la risposta corretta è vero se la frizione è a dischi multipli può essere del tipo a bagno d'olio la risposta corretta è vero la frizione a dischi multipli che serve per trasmettere una maggiore coppia motrice verso le ruote può essere di due tipi a secco o a bagno d'olio quelle a bagno d'olio sono meno rumorose e più progressive nell'accoppiamento diciamo nella fase di innesto possono essere impiegate sia nei cambi manuali o automatizzati sia in quelli automatici se la frizione è a disco unico è normalmente del tipo a secco a secco vuol dire che non è a bagno d'olio ovviamente la risposta corretta è vero la frizione in mono disco a secco è costituita da un grande disco d'acciaio le cui superfici sono fornite di una guarnizione di attrito come abbiamo detto prima ferodo cioè uno su una faccia verso sulla faccia verso il volano e l'altro sulla faccia verso lo spingi disco risposta corretta quindi è vero alcuni autoveicoli sono dotati di frizione a dischi multipli la risposta corretta è vero nei mezzi pesanti la frizione viene comandata da un pedale che aziona un servo a comando che spesso utilizza aria compressa la risposta corretta è vero in molti autocarri autobus di media portata il pedale della frizione agisce su un servo comando a funzionamento idraulico risposta corretta vero può essere anche quindi idraulico oltre che ad aria compressa a bordo di molti autobus la trasmissione idraulica sostituisce la frizione ed il cambio meccanico risposta corretta vero se la trasmissione è idraulica non esistono la frizione meccanica e il relativo pedale beh ovviamente è così quindi risposta corretta vero con la frizione automatica per ottenere la partenza del veicolo è sufficiente accelerare la risposta corretta vero per evitare lo slittamento in fase di partenza la frizione può essere sostituita da un collegamento a ingranaggi risposta corretta falso la frizione serve a mettere in collegamento direttamente il motore con gli assi delle ruote motrici anche questa affermazione è falsa perché ci vuole comunque un cambio di velocità in mezzo risposta corretta quindi falso il disco della frizione è in acciaio spazzolato ed è privo di qualsiasi rivestimento abbiamo detto che non è così perché ha i due ferodi sulle rispettive facce e quindi risposta corretta falso se la frizione automatica il pedale è sostituito da un interruttore se è automatica ovviamente non c'è un interruttore è automatica e quindi non viene comandata da un interruttore la risposta corretta falso grazie a tutti